eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre spaccate il tasto del like per supportare il tg code ed iscrivetevi per non perdere tutte le prossime novità primo link in descrizione la mia collaborazione con inebba che vi permettereà di acquistare tantissimi videogiochi nuovi e gioi del passato gift card abbonamenti xbox e playstation con tantissimi sconti approfittate del cashback e oggi vi aspetto alle 14 in live piattaforma viola per giocare insieme vi ricordo se avete amazon prime potete supportarmi con la sub gratuita ma partiamo perché vi faccio vedere questo bundle che vi ho fatto vedere nei giorni passati l'outman human che deve arrivare proprio durante questa stagione 1 bar stagione 1 reloadi dall'interno di mv3 e di warzone che ieri a sorpresa è stato introdotto sul bundle di warzone mobile al momento invece non ci sono informazioni per quando sarà rilasciato su mv3 e su warzone chissà come mai non è la prima volta che vediamo che un bundle del gioco principale venga rilasciato prima sul titolo mobile rimaniamo sempre in merito a bundle perché volevo riportarvi questa notizia molto curiosa di cui mi avete anche chiesti informazioni non recentemente ma finalmente ho trovato una risposta alla domanda sebbene vi ricordate questa skin che era per soap che era ottenibile tramite l'evento vi ricordate task force 141 versus shadow company dopo la vittoria della shadow company la skin non è mai stata ricompensata ed è stata comunque trasferita molto stranamente all'interno di mother warfare 3 ma la versione è sconosciuta quindi finalmente posso darvi una risposta a questa skin che mi avete chiesto di soap dedicata a uno degli eventi passati di warzone sempre in merito alla questione di call of duty volevo riportarvi questa notizia molto interessante perché è uscito un comunicato diciamo stampa una sorta di domanda in merito all'acquisizione di microsoft su activision blizzard come sapete nella questione di gran bretagna molti dei titoli passeranno su ubisoft plus per poter sbarcare in gran bretagna per la questione della concorrenza al momento ubisoft ha dichiarato che sta ancora lavorando per portare i giochi di activision blizzard tramite streaming cloud su bit of plus ma al momento non ci sono ancora dati di rilascio come non ci sono ancora dati di rilascio quando i vecchi code arriveranno sul game pass quando il nuovo code arriverà sul game pass e quando altri titoli di activision blizzard arriveranno nel game pass vi darò maggiori informazioni nei prossimi giorni ma come sapete a brevissimo arriveranno anche le prossime stagioni in questo video vi riporterò un piccolo approfondimento giusto per rinfrescarvi la memoria su quello che accadrà sulle armi domani poi domani uscirà un video riepilogativo sulla season one era l'audit però in queste ore l'insider osel 6 ha riportato informazioni che a quanto pare svelerebbero l'arrivo futuro di un crossover con the walking dead non è la prima volta che ve ne parlo con rick e micon come operatori dice infatti l'insider trovate nelle stringhe del gioco rick grimm e micon potrebbero essere rilasciati come operatori anche se non c'è ancora alcuna conferma molto probabilmente potrebbe essere legato allo spin off the one we lives in uscita il 25 febbraio 2024 infatti già in passato erano stati trovati dentro i file di gioco dei forti richiami a questi due operatori adesso ne parla in maniera molto e a gamba tesa l'insider hotel 6 vi darò maggiori informazioni nei prossimi giorni ma se fosse così potrebbe essere un annuncio per la stagione 2 mentre per quanto riguarda la stagione 1 vi rinfresco un attimo la memoria poi domani faremo un video riepilogativo con tutte le novità perché anche ieri me l'avete richiesto e queste sono le due nuove armi che vi aspetteranno a partire da domani una si sbloccherà e parliamo dell'MR9 che è una mitraglietta tramite la sfida dell'armeria mentre il tac evolvere che è l'MLMG quindi un mitraglione si sbloccherà tramite sfida settimanale una cosa molto importante di cui volevo dare informazioni stranamente il settore quello bloccato all'interno del battle pass segreto che si sblocca proprio domani ancora non si sa cosa porterà perché si era convinti anche leggendo il vari blog di activision che avrebbe portato ad una sfida per il tac evolvere vi darò maggiori informazioni nella giornata di domani mentre sempre nella giornata di domani arriverà questa nuova mappa perché gioca al multiplayer vi ricordo domani arriveranno anche le ranche di dmv3 con la nuova mappa rio rio de janeiro proprio mappa ambientata in brasile mappa sia dagli aspetti a corto raggio che medio raggio sarà veramente molto luminosa ma parliamo invece un attimo di quello che accadrà domani o meglio già a partire da questa sera come sapete ogni stagione ogni season parte con il pre download vi darò come sempre maggiori precisazioni in questo video allora a partire da questa sera probabilmente subito dopo cena o subito dopo le 7 molti utenti su battle.net vedranno partire il pre download della patch se no probabilmente già domani tutti i restanti su battle.net non si sa come mai dalle ultime stagioni e soprattutto dall'uscita di mv3 il pre download inizi prima su battle.net sappiamo che piattaforma activision blizzard ma c'è il contratto commerciale con playstation questo battle.net steam per rimanere in ambiente pc dovrà aspettare le ore 18 di domani xbox dovrà attendere le 18 di domani per scaricare la patch che a quanto pare sarà questa qui la 1.37 ma gli utenti playstation quando potranno scaricare bene inizieranno a partire da domani mattina gli scaglioni dovrebbero essere sempre le stesse intorno alle 7 del mattino intorno alle 12 del mattino e subito dopo le 15 tutti quanti i rimasti su piattaforma playstation di norma sono sempre questi i tre scaglioni perché vengono divisi per non appesantire troppo i server la cosa molto importante che sicuramente mi chiedere desiamante ok il pre download ok le date ok tutto quanto la stagione inizia domani alle 18 domani ci porterai un tg code con le novità ma quanto dovremo scaricare per logica ragazzi ogni stagione reloaded da quando ormai c'è la gestione warzone c'è l'uscita con il gioco premio e quanto pare si oscilla sempre dai 10 ai 15 gigabit considerate che domani non ci saranno modifiche alla mappa quindi già iniziamo con ancora la mappa che non viene modificata neanche un poi su warzone le due novità principali vi ho detto che sono state rinviate adesso decideranno se mettere in una playlist dedicata trovate il video informativo proprio a riguardo sul multiplayer mettono una mappa multiplayer e le modalità ranked due nuove armi e poi per il resto bundle la collaborazione con the boys e quant'altro quindi non è che dovremo sicuramente scaricare roba pesante quindi mettetevi come sempre da un peso dai 15 massimo qui dai 10 ai 15 gigabyte poi domani mattina e soprattutto questa sera quando appunto uscirà probabilmente su battle.net come già uscito precedentemente nelle precedenti e ultime season di mv2 ma soprattutto da quando uscito a mv3 vi darò il peso esatto nel video di domani mattina quindi mi raccomando rimanete sintonizzati che vi darò maggiori informazioni nelle prossime ore ma intanto vi ho dato una panoramica generale di tutto quello che sta per accadere nelle prossime ore e con questo chiudiamo il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty mi raccomando supportatelo al massimo un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi vi aspetta alle 14 live piattaforma viola e domani per un tg code edizione season one reloaded 11 live piatta